ma allora sei uscito io vado dal nonno guarda che il nonnino non ti vede più e ti devo prendere l'antiparassitario e e miau hai visto che disastro che c'è stato hai visto dove vai vieni dal nonno vieni vieni no nelle sedie no la mamma non si siede lì è tutto bagnato no non mi siedo lì con te no non mi siedo devo andare a far da mangiare al nonno sono in ritardo di mezz'ora no non mi siedo vieni su dai vieni vieni tu mosi vieni non vuol venire solo